San Pellegrino, una realtà meravigliosa per tutto il territorio e non solo. Un brand che gira il mondo, un driver per Regione Lombardia nella sua promozione. La sinergia del territorio fa sì che sia una squadra vincente con una lungimiranza futura di ulteriori investimenti. Quindi da parte mia e da parte Regione Lombardia un grazie a questa bellissima azienda e per l'acqua. L'acqua non è delocalizzabile e quindi noi siamo fieri di averla in Val Brembana.